Pronta dottoressa? Siete voi la dottoressa? Sì, sono la dottoressa. Ditemi. Dottoressa, mi dovete aiutare. È una settimana arrivata a bagno. Non lo asciugamano, a bagno, a cesso. È una settimana arrivata a cesso. C'è una pazza conga. Che devo fare? Aiutatemi voi. Vi dovete fare una bombetta. Che mi devo fare? Dottoressa, la bombetta? La pomba? Ma io dove la prendo la pomba? Io ce l'ho in giardino. Quella è buona. Non so se è buona questa pomba. Che mi devo fare la bombetta? Devo soffianare la bombetta? Che devo fare? Dove me la devo mettere? Nella l'orecchio. Sta bombetta dove me la devo mettere? Io non capisco. Dottoressa, ci siete? Ah, ci siete. Avete capito? Che dove fanno la bombetta? Quello se la maceranno dopo, la bomba. Eh, la bomba. La bomba. Che io dovevo arrivare i bombieri? Vabbè. Allora fatevi una bella prugnetta. Non ho capito. Che mi devo fare? A questo? Una? Eh, ma dottoressa, ma si può fare a questa ora di mattina? Non è che fa male? Eh, ma... Beh, se lo dite a voi, me la faccio. Poi mi richiamo. Che ne so io? Mi devo fare una... Va bene. Eh, va bene. Ma che cazzo era questo? Non ho. Eh, se lo sta bene con la testa, che mi deve fare? Una... Una pugnetta a prima mattina? Perché stiamo scherzando? Poi devo andare a comprare in farmacia, mi devo fare questa cosa. E che chiedeva a dire al farmacista? Dammi due. No, non ho capito. Forse ho capito una cosa. Ho sbagliato il numero. Ma la fangula, va? Arrivederci. Le prugne, le prugne, intendiamoci. Vabbè, se volete, se potete, condividetelo. Mi fate un piacere. Ciao. Telecomandino volatile. Ciao.